Questa esperienza è stata fantastica, è andata super bene, sono contenta di aver fatto dei passaggi che non mi aspettavo. Nel cuore mi porto tanta gratitudine, tanta gioia, tanta felicità di aver vissuto delle cose che non mi aspettavo di poter vivere. Questa esperienza la consiglierei soprattutto perché si torna a casa cambiati, migliorati, si è molto più motivati a fare i passaggi che molte volte non ci permettiamo di fare, quindi sono molto motivata. Era un periodo in cui mi sentivo un pochino scarica e questo evento mi ha redato tutta l'energia necessaria per ripartire alla grande. In questo momento la cosa che mi sembra possibile è il sapere che ce la posso fare, ce la posso fare da sola e sono bravissima a risolvermi le mie pippe mentali, i miei limiti ecco, i miei limiti. Tornerò a fare le cose con molta più leggerezza, quindi wow. E una volta che tornerò a casa incomincerò a fare le cose con molta più leggerezza, quindi una grande gioia. Volevo fare un saluto a Pat e dirle grazie, 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 grazie. Ogni volta che torno a casa sono una persona completamente cambiata e super super felice.